Entro 15 giorni l'isola ecologica di Campo Genova sarà spostata nel deposito dell'ex ditta Cecchini, ora di proprietà dell'Aer. Parola dell'assessore all'ambiente del comune di Avellino, Giuseppe Negrone, che sta seguendo i lavori sul posto. Il trasloco, che si inserisce nel piano di trasferimento del mercato, dal parcheggio dello stadio Partene Lombardi a Campo Genova e del terminal del bus da Piazza Kennedy allo stesso campo sportivo, permetterà un notevole ampliamento dell'area disponibile e una migliore sistemazione per gli stand degli ambulanti. Oggi provvederemo che il lago riguarda questo lato destro allo sgombero e per il momento una parte di questi mezzi rimarranno qua per l'utenza ancora per una quindicina di giorni in attesa che si finisce la nuova sede dell'isola ecologica. Al 50-60% il lavoro è quasi già fatto. A confermare la maggiore disponibilità di spazio e una migliore funzionalità della nuova sede è lo stesso Negrone, dall'inizio dell'intervento, impegnato insieme ai tecnici di Palazzo di Città, che non nasconde come una volta terminata l'opera, il mercato potrebbe restare a Campo Genova per parecchio tempo. Sicuramente più grande di quello del campo sportivo avrà ancora più parcheggi. Dovrebbero essere intorno ai 4.000-4.500 metri. Penso che sia più di ruotura nel tempo. In attesa di realizzare altre cose.